Di un'azienda che fa molti utili, da un bilancio di 878 milioni di utile per esempio, è possibile destinare più soldi alle migliori tecnologie possibili, ma è possibile immaginare anche un futuro diverso per Taranto, perché quegli impianti, e tutto negli atti di alcune inchieste che sono state fatte dalla magistratura, quegli impianti, soprattutto nell'area a caldo, non hanno mai, quasi mai, anzi mai, avuto una manutenzione né ordinaria né straordinaria. La mia domanda è, si potranno mai recuperare? O l'attesa è solo quella di spremuti limoni, di smettere gli impianti? Allora il futuro di Taranto è, nella bonifica di quei territori, possono lavorare il triplo.